buonasera buonasera a tutti ciao ragazzi come va ben ritrovati andremo a vedere anche altre cose come ad esempio anche come creare delle interfacce che possono diciamo anche essere dinamiche sulla base dei dati sulla base appunto di quello che ci arriva in base ai dati insomma adesso creeremo un nuovo progetto andiamo creare un nuovo progetto quindi se vi ricordate anche dall'altra volta new flutter project questo è dove si trova flutter la vostra installazione flutter e i sorgenti di flatter insomma dove c'è la cla e tutto quanto avanti e qui facciamo una nuova app ora questa sera creeremo un app simile diciamo una specie di app di presentazione in particolare siccome ho iniziato a mettere anche dei video su youtube cioè quindi tutte quante queste queste puntate le sto anche trasmettendo anche su youtube e voglio fare un'app di presentazione dove ci sono i corsi presenti su youtube e quelli che ho messo fino adesso insomma perché non li ho ancora messi tutti quanti piano piano li mettiamo uno dopo l'altro e quindi possiamo chiamarla la nuova app possiamo vabbè possiamo chiamarla cursis chiameremo cursis la descrizione la lasciamo in così e andiamo avanti a questo punto facciamo già una cosa lanciamo anche il nostro android virtuale che come vi ricordo se collegate il telefonino via usb o tramite core code potete sviluppare direttamente e vedendo ora l'interfaccia come viene nel vostro telefonino allora proviamo a lanciare la nostra app vediamo se si collega se tutto posso ok sta installando la pk ottimo è partita perfetto allora come abbiamo fatto l'altra volta cancelliamo tutto lasciamo tanto l'import ok quindi void main come abbiamo visto l'altra volta e poi abbiamo fatto il run up con il primo widget abbiamo imparato che dobbiamo fare cons material up quindi abbiamo la home poi mettiamo uno scaffold sul scaffold mettiamo un body e a questo punto un center tanto per centrare la nostra scritta text e qui il famosissimo hello world salviamo facciamo eccolo qui il nostro bellissimo hello world quindi facciamo subito mettiamo un'immagine negli assets quindi visto che sarà un'applicazione di corsi dove praticamente ci sono io mettiamo creiamo una directory assets all'interno di assets creiamo un'altra directory images mettiamo avatar così vediamo benissimo ok ok mio faccione questo avevamo messo qui no al posto del del text avevamo messo image hanno prima di vabbè mettiamolo tanto image image punto asset e qui dovevamo dirgli il path ricordate no poi avevamo fatto un altro passaggio adesso andremo fare subito quindi in assets migis avatar punto png non so perché l'ho chiamato avata avatar vabbè abbiamo chiamato avatar e abbiamo fatto un altro passaggio però dobbiamo fermare questo punto dell'emulazione andiamo nel nostro si qui ancora non vediamo il project perfetto eccolo qui e qui se vi ricordate nel pub spec che stasera lo rivedremo diverse volte nel pub spec avevamo decommentato queste righe ricordate no qui ho cancellato troppo eccolo qui e praticamente avevamo messo assets barra images barra ok l'immagine l'ha caricata ovviamente è un po' troppo grande quindi noi la limitiamo l'abbiamo visto anche l'altra volta 300 pixel vediamo come salta fuori e vogliamo metterci anche il nome quindi qui dobbiamo per forza metterci un column quindi abbiamo messo image asset e qui ci mettiamo anche un testo alberto belliamo culo andiamo a rinfrescare vediamo se c'è perfetto però purtroppo vedete mettendo il column ha spostato tutto quanto sopra se vi ricordate l'altra volta avevamo visto anche che c'era la possibilità di allineare tutti i widget ad esempio al centro quindi mettendo così si allinea tutto quanto al centro ovviamente la scritta è un po troppo vicino rispetto all'immagine quindi possiamo distanziarla facendo un size box ad esempio di 10 a questo punto allora rinfreschiamo il tutto ecco che si è allontanato ottimo ovviamente il mio nome si vede un po troppo poco e quindi andiamo a stilizzare un po quello che è quella scritta quindi textile che cosa facciamo un po size magari di 20 vediamo un po già già meglio dopo il testo vogliamo metterci anche un bottone perché questa sarà la presentazione nell'ottica ovviamente questa applicazione molto didattica poi non andremo a fare gran cose però è un proprio per vedere alcune alcune cose importanti quindi qui ci mettiamo un bottone qui ci mettiamo un testo questi due elementi child e on preset sono obbligatori quindi qui mettiamo il testo e mettiamo ad esempio corsi anzi in inglese cursis e qui in questo momento ci mettiamo facciamo così poi vedremo anche dopo un po meglio questa cosa se adesso vado a ricaricare dovremmo vedere anche il bottone eccolo qui e la mia scritta ovviamente ci mettiamo un altro set box per allontanarlo vediamo se così è un po meglio ok e abbiamo messo il bottone se qui mettona al vi ricordate se qui mettona al a quel punto il bottone diventa disabilitato e infatti vedete si disabilita quindi rimettiamo rimettiamo di nuovo la nostra funzione ottimo magari questo bottone possiamo anche stilizzarlo e andiamo di nuovo a stilizzare questo bottone quindi outline button appunto style from questo abbiamo visto anche questo più o meno della anche dall'altra volta quindi ci andiamo a mettere un un colore di tipo light blue e un colore di foreground colors punto white va bene benissimo però magari potremmo anche vogliamo metterci anche un'icona su questo bottone allora flutter l'ecosistema di flutter e ci dà già le icone perché perché arriviamo da material quindi avremo tutte le icone di materia come si fa a mettere un'icona nei costruttori abbiamo visto anche l'altra volta come si fa un fare un costruttore custom icon e qui abbiamo la property la prima property e icon e quindi qui possiamo usare un widget icon e come si fa avere un icon data icons punto tutte queste vedete sono tutte quanti icone e ognuna di queste è un icon data ad esempio possiamo usare terminal qui ci dice che non va più bene perché non esiste più la property child ma esiste la property label quindi andiamo a sostituirlo ecco qua e andiamo a vedere ecco qua abbiamo fatto un bottone con l'icona dentro se andiamo a vedere l'icona posso anche ad esempio farla più grande guardate molto semplice ovviamente vogliamo un'icona standard anzi la facciamo magari lunga 24 benissimo ora cos'è che vogliamo fare vogliamo che alla pressione di questo pulsante vada su un'altra schermata non vi farò vedere questa sera come gestire più schermate vi faccio vedere una cosa un po alternativa ma è un po per entrare nei concetti di come funziona diciamo flutter ok quindi vedremo un metodo un po portodosso ma non è così che si fa per poter cambiare schermate avere più schermate all'interno di un'applicazione flutter quindi cosa dovremmo fare abbiamo visto l'altra volta a differenza tra un widget stateless e un widget stateful la differenza era che un widget stateless non cambia perché non c'è variabile al suo interno un widget stateful e invece cambia cioè può avere degli stati al suo interno che fanno cambiare la visualizzazione ogni volta che facevamo set state se vi ricordate c'era quella cosa ci permetteva di dire guarda che è cambiato una variabile rinfresca la schermata o il widget più che altro il widget a quel punto rirenderizzava riandava a fare il il build il metodo di build ma penso che sia meglio che lo andiamo a vedere da codice quindi volendo appunto gestire la possibilità che premendo il bottone si cambia diciamo si cambia la schermata in maniera un po diciamo ortodossa però vi faccio vedere come si può fare qui adesso creiamo un altro file creeremo un altro widget chiameremo handler e andre pages ora in andre pages andiamo creare la classe handler pages che estende che cosa anzi vi faccio vedere direttamente come si fanno perché andre il studio c'ha degli snippet che ci permettono di creare direttamente il codice ad esempio in questo caso vogliamo usare un widget stateful che si occuperà praticamente di gestire questo cambiamento della schermata quindi un widget stateful e lo chiameremo handler pages ovviamente qui mi dice che devo importare devo fare l'import del package se vi ricordate l'avevamo visto anche l'altra volta importiamo flutter material a questo punto il problema si è risolto allora volendo poi avere questo handler pages che faremo creeremo un altro widget che chiameremo chiameremo start screen e anche lo start screen in realtà sarà molto statico quindi non avrà cambiamenti di stato non è un widget molto complesso è questo praticamente quindi qui possiamo usare lo snippet stateless new stateless widget eccolo qua start screen benissimo ovviamente dobbiamo andare importare i pacchetti dobbiamo fare un attimo il rimaneggio di tutto quanto il codice allora il main avrà il widget handler e l'handler gestirà le varie schermate quindi che dobbiamo fare dobbiamo prendere tutta questa cosa e portarla fuori quindi dovremmo spostare fuori tutto quello che riguarda all'interno dello scaffold in questo momento facciamo lo scaffold ok quindi portiamo quello che c'è da qui a qui lo portiamo via e lo mettiamo dentro lo start screen benissimo andiamo a vedere cosa manca manca l'outlined button che andremo a importare ma l'avamo portato ah l'avamo portato copertino ok benissimo abbiamo messo quindi questo sarà lo screen di partenza ovviamente adesso main mi dice che c'è un errore perché qui andremo a mettere l'handler pages ora l'handler pages qui mi ritorna un placeholder se salvo se salvo il tutto salvo il tutto faccio un reload non dovrei più vedere ecco qui questo è il widget di placeholder da dove lo va a prendere se andiamo a vedere qui ender pages ender pages l'unica cosa che ritorna è questo placeholder il placeholder fa questa questa x per intenderci serve proprio da posizionamento da cosa da dove andrà a mettersi un nuovo widget quindi se qui invece di fare il placeholder ci metto start screen in questo modo e faccio un refresh e avremo lo stato di prima ovviamente qui ci avremo il bottone che però vogliamo fare in modo che quando questo bottone venga cliccato cambi la schermata quindi dovrà da questo widget dovremo fare in modo che chiami una funzione qui dentro che cambi la schermata e come possiamo fare intanto iniziamo da ender pages cosa dovremmo fare qui dovremmo avere una variabile che chiameremo active screen e cosa sarà uguale uguale cost start screen se adesso questa variabile che abbiamo appena definita la metto qui la situazione non cambia però è il primo passaggio per poter rendere diciamo l'ender page il gestore delle pagine della nostra applicazione a questo punto che dovremmo fare dovremmo qui possiamo creare una funzione che chiameremo void questa è un void perché non tornerà niente la chiameremo change screen in questo modo e a questo punto faremo active screen uguale la nuova pagina andiamo a crearla questa pagina intanto creiamo il file dart la chiameremo cursis qui per il momento lasciamo uno state less widget cursis ritorniamo nel nostro ender pages active screen uguale cursis se vi ricordate dall'altra volta adesso qui andiamo a importare innanzitutto vedete il primo problema è questo mi sta dando un errore mi dice guarda che cursis non è una variabile di tipo start screen perché perché definendola come var praticamente la prima assegnazione la variabile active screen prende la prima assegnazione quindi questa variabile se accendiamo sopra è di tipo start screen come faccio per fare in modo che active screen possa prendere anche cursis molto semplice qui la posso definire come tipo widget a questo punto definendola come widget l'errore è scomparso ma se vi ricordate se facciamo questa assegnazione così diretta non ripassa per il build e cosa bisogna fare allora per farlo ripassare nel build dobbiamo usare il set state eccolo qui facendo così ripasserà per il build con la variabile aggiornata e cambierà la schermata ma nonostante abbiamo fatto tutto questo anche se io salvo e ricarico dobbiamo dire al bottone del start screen che quando verrà premuto questo bottone chiami questa funzione e come facciamo andiamo sul start screen benissimo ora sullo start screen dobbiamo farci passare questa funzione che poi andrà invocata quando andiamo a premere il bottone qui mettiamolo poi in ordine eccolo qua qui dovremo chiamare la funzione che è definita dalla schermata di partenza quindi dobbiamo trovare un modo per passarlo qui dentro e come facciamo molto semplice qui all'interno dello start screen ci passiamo ci facciamo passare qualcosa di tipo function function magari quindi noi possiamo dire change screen virgola quindi sarà un parametro essenziale ovviamente questo non ritornerà niente void ho scritto male change screen in realtà vedete mi sta dando un errore mi sta dicendo che che non va bene perché perché anche se noi passiamo una funzione qui io non posso usarla da qualunque parte ma devo creare una variabile void function change screen function change screen ora mi sa che ho sbagliato qualche cosa proviamo a cancellare un attimo scusatemi che mi sta dicendo can't define a const constrata for a class ah ok mi sta dicendo guarda che non posso definire un const dovrei toglierlo via lo tolgo via a questo punto non mi da errore qui mi mancano le parentesi ok ora però vedete continua a darmi un errore mi sta dicendo guarda che tu hai definito questa variabile ma non è inizializzata e quindi qui mi sta dicendo guarda che non posso non si può creare questa classe perché questa variabile non è inizializzata qui dovrei metterci ad esempio o ci metto qualcosa scusate o ci metto un punto di domanda se ci metto un punto di domanda l'errore scompare che significa che ho questa variabile che sarà anche di tipo null quindi all'inizio sarà null e magari poi in un secondo momento la inizializzo ma noi in realtà dobbiamo farcela passare nel costruttore e quindi come facciamo molto semplice facciamo vis.change screen il vis messo nel costruttore in questo modo in questo modo significa che a questo al costruttore di start screen passeremo un parametro change screen che è di tipo function di questo tipo e il vis è riferito proprio che si riferisce a questa variabile cioè alla variabile definita all'interno della nostra classe a questo punto il punto di domanda lo posso cancellare perché a questo punto significa che diventa obbligatorio anche per chi mi stanzia avevamo detto che il cost ottimizza ottimizza la nostra applicazione se noi mettiamo riusciamo a mettere più cost possibili all'interno dei vari widget la ottimizza quindi se metto cost qui adesso mi dice occhio che hai messo il cost cost ma devi cercare di far diventare tutti i parametri di tipo final e quindi qui final perché posso metterci final perché questo sono sicuro che non lo cambierò durante l'esecuzione delle widget se lo cambiavo se ad esempio questa fosse stata una variabile che se cambiava man mano nell'esecuzione della nostra applicazione ovviamente non potevo metterci final ma in questo momento visto che è una funzione soltanto che mi serve per cambiare la schermata la marco final quindi abbiamo definito questa funzione e adesso vedete qui mi sta dando un errore mi sta dicendo mi sta dando un errore e qual è l'errore mi sta dicendo guarda che qui eccolo qua mi passo la nostra funzione e ovviamente non posso più dirgli che è costante vedete mi sta dicendo comunque sia guardate mi sta dicendo guarda che non posso passare questa funzione nel costruttore perché 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 tu stai definendo questa variabile è in fase di inizializzazione della classe e quindi ci dice guarda questa funzione in realtà non è ancora inizializzata non è ancora pronta ma ma devi aspettare che succeda qualcosa che sia che inizi magari a passare per il build e quindi mi sta dicendo guarda non posso accedere questa ma anche se mettevo una variabile non potevo passare perché perché e deve essere inizializzato e deve essere inizializzata la variabile allora lo state qui ci dà la possibilità però una delle cose che ci dà lo state è una funzione vediamo se riesco a vederla eccolo qua che si chiama iniziate allora l'init state la troviamo soltanto per i widget di tipo stateful perché viene messa a disposizione proprio per i widget di tipo stateful viene chiamata subito dopo il costruttore ma prima del build viene chiamato questo init state e quindi cosa possiamo fare possiamo inizializzare l'active state direttamente qui dentro quindi possiamo dopo aver fatto super init state notare che fa l'override di init state quindi è definita dentro lo state e qui possiamo sovrascriverlo richiamiamo lo stesso super punto init state cioè chiamiamo l'init state dello state cioè inizializziamo lo stato del nostro componente del nostro widget e poi qui possiamo a questo punto fare active screen uguale start screen passandogli il change screen in questo modo vedete qui non c'è l'errore e quindi qui dovremo eliminarlo però abbiamo un altro errore mi dice guarda che dovresti inizializzarlo questo momento ci accontentiamo di mettere un punto di domanda qui ovviamente dobbiamo andare a verificare a questo punto se è inizializzato oppure no perché qui vi vedete mi sta dando un errore dicendomi guarda che l'active screen potrebbe essere tipo null e quindi cosa possiamo fare possiamo metterci un if nel build dire se active screen uguale uguale a null magari ci mettiamo un placeholder altrimenti ritorna l'active screen else ritorna active screen a questo punto mi dice guarda che però potrebbe essere null dovrebbe bastare metterci il punto esclamativo in realtà sappiamo perché ve l'ho appena detto che prima viene creato l'inistate poi viene creato il build questo if non si rende necessario quindi possiamo ritornare tranquillamente l'active screen col punto esclamativo punto esclamativo significa ignora il tipo nullabile perché sono sicuro che qui non ci saranno problemi salviamo salviamo il tutto intanto buona notizia l'applicazione funziona e se premiamo a questo punto cursis non succede niente è certo certo che non succede niente perché finalmente siamo riusciti a farci passare la funzione qui ma dobbiamo invocarla nell'on pressed qui e quindi qui facciamo vis.change screen è una funzione quindi ci mettiamo le prendici tonde salviamo ricarichiamo vediamo se adesso funziona e bam funziona siamo riusciti a fare il cambiamento di schermata in realtà non abbiamo fatto proprio un vero e proprio cambiamento di schermata lo vedremo nelle volte successive però abbiamo cambiato l'intero widget rifacciamo un refresh da qui clicco e sono arrivato alla seconda schermata con il placeholder ripulisco qui però siccome chiamo soltanto il change screen non faccio altro chiamo questo invece di passare una funzione che chiama una funzione qui posso passare il riferimento della funzione in questo modo vedete non dà errori se adesso io ricarico e ripremo il pulsante funziona come prima però ho passato il riferimento perché perché qui sto passando sempre il riferimento della funzione questo final void è il riferimento alla funzione che è presente qui questo questo è il riferimento della funzione quindi facendo il change screen cambia i cursis abbiamo anche un altro modo per gestire questa cosa volendo invece di dire che l'active screen è un widget possiamo dire che l'active screen è una stringa che forse è un po' più semplice qui possiamo dire che questo è start screen quindi inizializziamo la variabile con start screen qui a questo punto nel set state non è più cursis ma diremo che sarà la pagina di corsi in questo modo a questo punto possiamo eliminare l'intestate lo eliminiamo non serve più perché lo eliminiamo perché magari non vogliamo fare l'intestate soltanto per fare il cambiamento della schermata vogliamo essere un po' più smart vogliamo essere un po' più veloci quindi creiamo una stringa inizializziamo questo hack screen quando viene premuta la funzione change screen la assegniamo a cursis a questo punto qui che dobbiamo fare dobbiamo dire il ritorno quindi qui cosa possiamo mettere possiamo fare la prima operazione if active screen uguale uguale a start screen return che cosa il widget start screen qui ovviamente mi ripropone sempre una funzione perché qui dobbiamo dirgli change screen eccola qui altrimenti fare un return di cursis in questo modo adesso facciamo reload dell'intera app rifacciamo la reload ecco qui se apriamo il bottone ritornerà come era prima facciamo un altro passaggio passiamo l'intero material app in questo modo e qui ci mettiamo a questo punto invece di passarci material app ci passiamo l'endler pages in questo modo e quindi qui invece di passare soltanto il widget centrale passiamo facciamo un bel return material app e a questo punto l'if lo vogliamo mettere qui nel body allora commentiamolo un attimo in questo modo allora se passo l'ender pages di ender pages non va bene se qui metto start screen ovviamente mi farà vedere solamente la pagina iniziale ovviamente c'è qualcosa che non va che casi bisogna mettergli sempre la funzione ok eccolo qui stesso rilancio avremo la pagina principale col change screen che cambia la stringa ma non succede niente come faccio qui e come faccio qui a determinare quale widget passare nel body qui ad esempio possiamo usare un operatore alternario quindi active screen è uguale start screen se è uguale start screen passiamo start screen altrimenti courses in questo modo facciamo reload stesso clicco siamo ritornati e funziona come prima e abbiamo eliminato l'indice state e abbiamo eliminato anche questo brutto if vi faccio vedere un'altra alternativa all'operatore alternario non l'abbiamo mai visto ma all'interno del build posso definire delle variabili quindi posso definire ad esempio una variabile screen è uguale a che cosa posso prendere interamente questo codice spostarlo fuori quindi prepararmi prima del return in realtà sempre stessa cosa e qui body posso dire body screen rifacciamo reload premiamo il bottone e continua a funzionare qui posso anche marcarlo come final perché perché all'interno del build non c'è altro codice che andrà a cambiare il valore in questa variabile no quindi se rifaccio reload ho fatto un minimo di di ottimizzazione ecco fatto non vi piace l'operatore alternario altro modo definiamo la variabile più o meno come avevamo fatto prima widget screen uguale la inizializziamo con lo start screen quindi qui passiamo sempre la funzione e se active screen è uguale uguale a start screen allora screen è uguale a change a cursis andiamo a ricaricare la nostra applicazione verifichiamo se anche questo modo funziona ho sbagliato come prima eh sì certo questo è cursis eccolo qui premo il pulsante ed è rifunziona come prima vi volevo far vedere una cosa riguardo l'operatore alternario qui allora in dart io posso definire ad esempio una lista my list è uguale a 1 2 3 4 5 6 quindi ho definito una lista ora non mi ricordo se facendo il print di my list cosa succeda sinceramente non mi ricordo dovrebbe stamparla vediamo ok la stampa benissimo quello che si può fare su una lista poi andremo a vedere anche proprio facendo codice layout una delle cose carine che c'è in dart è che io posso definire una condizione condition uguale a true ad esempio e qui dire che il valore 4 è basato su questa condizione quindi posso fare un if condition quindi se la condizione è vera dammi ad esempio 10 altrimenti è 4 se adesso lancio sulla base di questa condizione vedete cambia il mio array la stessa cosa posso farla in questo modo con l'operatore alternario quindi chiameremo list2 invece di metterci l'if io qui posso fare if condition punto di domanda 10 2.4 e qui adesso stampiamo anche my list2 vedremo che risultato è sempre lo stesso eccolo qua ok quindi in un array posso metterci delle condizioni sulla definizione dell'array ci tornerà molto utile questa cosa delle liste allora premiamo il bottone e abbiamo questo placeholder ovviamente un po' bruttino magari ci mettiamo di nuovo un bel widget di tipo courses courses salviamo vediamo che cosa salta fuori qui dentro come vi dicevo siamo ritornati indietro eccolo qua è qua sopra quindi magari lo centriamo togliamo via il text andiamo qui salta fuori la lentina e lo centriamo e vediamo perfetto adesso ce l'abbiamo in centro ora qui voglio fare una lista dei corsi dei miei corsi e vediamo